Sgabellino mini molto molto utile se non lo trovate proprio così trovate qualcosa sul genere potete andare anche dove vendono cose di pesca poi piattino per miscelare gli acquarelli straccetto o fazzolettini di carta basta anche un pennello di questa misura qua non serve più grande o più piccolo 12 come misura per ogni marca poi può avere un diverso numero veramente però insomma così fatevi un'idea comunque chi viene sicuramente a trieste per cui può passare in via roma 20 a trovarmi e faccio vedere questa cosa dal vivo una penna o stilografica un pennello sottile 0.05 che adesso ho dimenticato per questo faccio la lista non lo posso farvelo vedere però un pennello un vedete 0.05 molto sottile acqua un bicchierino bacinella per mettere l'acqua gli acquarelli ok voglio questi non lasciatevi ingannare della scatola che è tutta ricostruita acquarelli non serve tantissimi acquarelli bastano quelli meglio pochi ma di qualità ok ciao ciao